C'è chi lo ha definito il presidente meno popolare nella storia degli Stati Uniti. I primi cento giorni alla Casa Bianca per Donald Trump sono passati tra slogan, tweet e politiche giudicate impopolari, una riforma della sanità bocciata e crisi internazionali dalla Siria alla minaccia della Corea del Nord. Il taekun sfidando la stampa e gli avversari si dà un bel dieci ai suoi elettori promette che il muro al confine con il Messico verrà costruito, che i terroristi legati al radicalismo islamico e gli immigrati irregolari resteranno fuori dal paese. Ecco poi ricomparire lo scontro durissimo tra Trump e i media. A sorpresa, il presidente diserta alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, preferendo tenere comizi lontano da Washington e accusando giornali e tv di essere falsi e disonesti. Ora gli occhi sono puntati sull'accordo di Parigi sul clima, accordo che l'amministrazione americana non digerisce. Gli Stati Uniti, dice Trump, pagano i costi e sopportano gli oneri, mentre altri paesi ottengono benefici e non pagano niente. Ma forse presto verrà presa una grande decisione. In attesa di conoscere il verdetto sull'eventuale ritiro del paese dall'intesa, il presidente con il suo nuovo alleato cinese guarda le ripetute provocazioni di Pyongyang, ripetendo che la pazienza è finita. In attesa di conoscere il nostro corrispondenti della Casa Bianca, ripetendo che la pazienza è finita.